Torniamo a fare gli attaccanti, torniamo a premiare gli attaccanti perché c'è un giocatore che è stato il migliore a livello realizzativo in tutti e tre i gironi, parliamo del bomber della Feralpi Salò, miglior bomber, girone B dell'anno scorso, Simone Guerra. Ciao Simone, complimenti, professione bomber per te, l'anno scorso è stata una stagione esaltante, quest'anno chiaramente volete proporvi nelle zone altissime della classifica, però tu fai gol in qualsiasi modo, in qualsiasi maniera, è quello il tuo biglietto da visita. Innanzitutto buonasera a tutti e grazie del premio, sì diciamo che l'anno scorso è stato un anno molto importante dal punto di vista realizzativo, peccato che il nostro sogno sia stato infranto a Catania nei play-off e quest'anno la squadra è forte, importante e quindi speriamo di toglierci soddisfazioni importanti e di dare una gioia al nostro presidente. Complimenti, complimenti Simone Guerra, bomber della Feralpi Salò, migliore realizzatore. Grazie Simone, grazie.